Non hai sentito il telegiornale? No, perché? Che cosa hanno detto? Sta per arrivare un culo uregano! Brigati, andiamo a stupare mio papà, per favore! Il mare si sta alzando! Guardate, guardate! Batterie all'1%! No, si è spento! Ma cosa fanno quei ragazzi lì? Uscite, uscite! Uscite, uscite! Siamo in casa! Con i ciri sono rimasti incastrato! Mamma di! No, mio papà è finito il mare! Non lo rivedrò mai più! Cuoricini, buongiorno! Sto scappando subito a prendere Martina Missi a scuola! Perché c'è bruttissimo tempo, ok? Hanno detto che porterà, non lo so, un temporale, una pioggia... Addirittura parlano di un uragano! Boh, comunque io mi sbrigo perché la devo andare a prendere immediatamente! Andiamo, andiamo, andiamo! Martina, sbrighiamoci, sbrighiamoci! Ciao a tutti i cuoricini! Sì, io sono Martina Missi! Ciao, ciao cuoricini, sì, vi ho anche salutato io prima, ma dobbiamo sbrigarci perché guarda, Martina sta per arrivare un temporale, ok? Il meteo dice che addirittura ci sarà un uragano! Dobbiamo sbrigarci e rinchiuderci in casa! Sbrighiamoci, mamma! Dai, 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 dai! Dai, 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 salta su, dai! Dai, dai, speriamo bene! Ragazzi, è veramente nuvolosissimo come non l'è mai stato! Guardate! Martina, Martina, dobbiamo sbrigarci! Sta arrivando veramente un tempo bruttissimo! Il telegiornale ha proprio ragione! Sta squillando il telefono! Aspetta che mi fermo qui, mi fermo qui! Sì, mamma, rispondi, vedi chi è? Ok, ok, mi accosto qui, mi accosto qui, allora, vediamo un po' chi è! Papà Salvo! Vediamo cosa vuole! Pronto? Pronto, mamma, dimmi! Eh sì, papà Salvo, dimmi! Mi serve una mano d'aiuto, sono rimasto bloccato! Ma come una mano d'aiuto? Ma bloccato dove? Io devo subito andare a casa, non hai sentito il telegiornale! No, perché? Che cosa hanno detto? Hanno detto che sta per arrivare un temporale bruttissimo mai visto prima e addirittura ci sarà un uregano! Ma come un uregano? Io mi trovo in zona di mare e qui effettivamente il mare sta iniziando a ingrossarsi! Ma tu che ci fai in zona mare? Dovresti essere già a casa! Eh, ho avuto un problema con l'auto! Un problema con l'auto? Va bene, dai, ti sto venendo a prendere, dai! Resta fermo lì e non ti muovere! E dove dovrei andare? Sono rimasto a piedi con la macchina, sono se fermo qui! Eh sì sì, ok, arrivo, arrivo, arrivo! Sbrigati! Mamma, ma cos'è successo papà? Eh, cos'è successo Martina? È successo che hai rimasto bloccato con la macchina in mezzo al temporale, in mezzo al traffico e quindi devo tornare indietro e dobbiamo andare immediatamente a recuperarlo perché la situazione è molto grave e pericolosa! Dobbiamo subito tutti ritornare a casa e rifugiarci! Per fortuna Leon è a casa con i nonni! Dai Martina, sbrigiamoci, devo tornare indietro! Mamma, perché dobbiamo tornare indietro? Dove è bloccato papà? Eh, è proprio qui dietro, qui vicino, vicino al mare! Dobbiamo tornare indietro a recuperarlo Martina perché il mare oggi è veramente pericoloso! Allora mamma, sbrigati, sbrigati! Andiamo a stupare mio papà, per favore! Cuoricino, lasciate duemila like se volete vedere questo video come va a finire! Ma cuoricini, speriamo che mamma ti arriva presto perché io sono rimasto a prendere la macchina e purtroppo non so nemmeno come tornare a casa! Ma questa cosa qui del maltempo, effettivamente il cielo è abbastanza nero! Adesso vado a guardare il mare perché mamma ti, mi parlava di un uragano! Oh mio Dio, qua la situazione è veramente drammatica! Mi sa che mamma ti ha veramente ragione! Guardate, le onde sono molto più alte del normale! E addirittura qui il livello del mare si è alzato tantissimo! Sta arrivando il mare sulla strada ragazzi, mi devo mettere subito a riparo! Guardate, cuoricini, quei due ragazzi sono rimasti incastrati fra i scogli! Qua la situazione è veramente pericolosa, mi devo allontanare immediatamente da questo posto! Forza Martina, forza, sbrigiamoci! Ok, cuoricini, ci hanno fatto lasciare la macchina qui perché non si può proseguire a piedi, ok? Il cielo è sempre più nero, sta iniziando a piovere, sta cadendo già qualche goccia, il mare si sta alzando! Guardate, guardate! Ci dobbiamo velocizzare perché altrimenti potrebbe finire molto male per papà, salvo che è bloccato qui in mezzo al nulla, in mezzo alla strada! Ok, Martina, Martina, ascoltami amore, adesso dobbiamo correre, dobbiamo cercare papà, salvo, stai tranquilla, continueremo a piedi! Mamma io sono veramente preoccupata! Ma, Martina, anch'io sono preoccupata, anch'io, perché se il mare si alzerà ancora di più, arriverà qui sulla strada e ci travolgerà! Martina, iniziamo a correre, iniziamo a correre! Andiamo da quella volta! Cinque minuti dopo! Cuoricini, la situazione è veramente critica, ok? Guardate il mare come si sta alzando, sentite il rumore, guardate! Cuoricini, devo chiamare immediatamente a mamma t, perché non sto riuscendo a contattarla! Il mio cellulare è quasi scarico e il telefono non prende nemmeno la linea! Oh no, batteria all'1%! No, si è spento! Cuoricini, e ora come faccio? Non posso più nemmeno telefonargli! Allora, cuoricini, papà salvo dovrebbe essere in una di queste zone, ok? Hanno già fatto evacuare tutta la zona, praticamente! Ci siamo solo io e Martina qui! Perché Martina? Io sono entrata di nascosto per venire a salvare papà salvo! C'erano le transenne e io le ho sorpassate! Perché dobbiamo salvarlo, dobbiamo trovarlo! Mamma, ma non è pericoloso che stiamo entrati qui? Sì, sì, Martina è pericoloso, è pericoloso! Però che cosa faccio? Che cosa posso fare? Devo cercarlo e devo trovarlo, perché altrimenti resta qui! Vieni, corriamo, andiamo a vedere da quella parte! Ragazzi, si è già alzato il vento! Il mare è fortissimo! Ha lasciato qui! Tutta la roba sta già volando! Ma cosa fanno quei ragazzi lì? Uscite, uscite, alzatevi da là! Spostatevi, è pericoloso! Uscite, uscite! Scusatevi! Ma io le sto facendo via, mamma! Martina, no, non ci possiamo fare nulla! Spostiamoci da qua, perché è pericoloso anche per noi! Andiamo a cercare papà salvo! Niente da fare, Martina! Non c'è da nessuna parte papà qui! E non possiamo neanche più proseguire, perché da quella parte si sta alzando il mare ancora più! Più forte! Ok, Martina, dobbiamo tornare indietro in macchina e dobbiamo cambiare strada! Ok? Io adesso... Martina, stai tranquilla, per favore! Mamma, ho paura! Lo so, lo so, però se fregni così non concludiamo nulla! Mamma, ma perché non lo chiami? Sì, sì, Martina! Hai ragione, devo chiamarlo! Ma prima dobbiamo ritornare in macchina! Lo chiamerò dalla macchina, perché qui di papà salvo non c'è neanche l'ombra! Non c'è nessuna traccia! Quoi cinema voi l'avete visto per caso? Ma... Vuoi vedere che è finito in mare con la macchina? Mamma mia! Ragazzi, mi sto iniziando a preoccupare davvero, perché il mare non è mai stato così agitato! Questo è un vero e proprio uregano! Martina, Martina! Andiamo verso la macchina, ok? Lì ci sono le transelle, ci sono i vigili del fuoco, ci sono i pompieri, c'è la polizia! Non possiamo passare se ci vedono! Si incavoleranno tantissimo che siamo entrati qui di nascosto per traccare papà, ok? Andiamo, andiamo, Martina! Andiamo, Martina, andiamo! Poco fa siamo entrati da questa parte! Ok! Passiamo, vieni! Vieni qua! Ok, questo è il posto da dove siamo entrati! Ok, abbiamo spostato le transelle e siamo entrati in questa strada dove non c'era assolutamente possibilità di accesso! Ma io e Martina siamo entrati per cercare papà salvo! Comunque andiamo verso la macchina e sbrigiamoci prima che il mare arrivi a travolgerci! Mamma, quanto ci vuole per arrivare in macchina e per chiamare mio papà? Ci vuole poco, ci vuole poco! Se no mi sbaglio la macchina, non lasciate lì da quella parte! Ma guardate ragazzi! Qui addirittura hanno evacuato tutti i locali! Non c'è più nessuno! Hanno fatto fuggire tutti! Hanno messo tutti in sicurezza! Solo noi che siamo rimasti qui, Martina! Ce lo dobbiamo andare immediatamente! Martina, ci sbrigiamo! Devo cercare il telefono per chiamare papà salvo! Ok? Dove l'avrò messo? Dove l'avrò messo? Dove? Dove? Eccolo! Eccolo! Allora... Ragazzi intanto ci dobbiamo spostare da qua! Ok Martina non posso più restare qua! Mi devo spostare! Prima mi devo spostare! Dove lo chiamo? Prima mi devo spostare! Mamma mamma mamma! Sento cielo! Mamma mia ma stia dovevo scappare! Sento cielo ragazzi! Non ho mai visto nulla del genere! Non ho mai visto una cosa simile! Qui in Sicilia non era mai accaduto un uregano del genere, una tempesta del genere! E il mare che è agitatissimo si alza così in alto da provocare delle onde fortissime che addirittura travolgono anche le case! Travolgono tutto! Macchine, case, pullman, dei camion giganteschi! E ora noi dobbiamo trovare un posto più sicuro dove fermarci e telefonare immediatamente a papà salvo che poverino si sarà rifugiato da qualche parte! Effettivamente io non ho trovato neanche la macchina! Mamma se la macchina è finita in mare! In mare! Mamma mia! Ma allora a quel punto è proprio uno tsunami che ha trasportato la macchina di papà salvo! Martina, dobbiamo chiamare i soccorsi! Ok? Ragazzi, qui ormai la situazione ci sfuggì da di mano! Ok? Ho perso il controllo della situazione! Devo chiamare i rinforzi per andare a cercare il papà salvo! Adesso mi fermo e lo chiamo! E se non ci risponderà, allora sarà vero che è finito in mare! Ok, mi fermo qui! Provo a chiamarlo Martina! Non ti dobbiamo fare Martina! Il tuo cuore è staccato! No, mio papà è finito in mare! Non lo rivedrà mai più! No Martina, non fare così! Non dire queste cose! Martina, Martina aspetta amore! Stai tranquilla! Adesso lo vado a cercare da quella parte! Tu resta in macchina, ok? Perché non puoi avvicinarti lì! È molto molto pericoloso! Guardate il mare quanto è alto! Martina, ricordati che ti voglio bene! Va bene amore? Martina ascoltami! Ascoltami! Cuoricina anche voi! Qualsiasi cosa succede! Se non dovessi ritornare! Mi raccomando Martina! Vai da quella parte! C'è! Ci sono i vigili! Ci sono i pompieri! Martina! Io devo andare a cercare il papà! Ok? Tu sei una rabbia forte! Ok? Tranquilla Martina! Devo andare da quella parte! Mamma mia ragazzi! Tutte per il mare come è agitato! È tutto nero, nero, nero! È nerissimo! Fa proprio paura! Ma io devo scavalcare questo muro e vedere se papà salvo è da questa parte! Devo fare l'ultimo tentativo per ritrovare il mio amore! Sono piacendo ragazzi! Io non vedo niente! Ma forse... Forse lì! Forse lì vedo qualcosa! Quaricini sono rimasto incastrato! Mamma dì! Mamma dì! Aiutami! Sì! Forse papà salvo! È incastrato in mezzo agli scogli! Ragazzi scrivete nei commenti a Martina che suo padre è incastrato in mezzo agli scogli! Papà salvo! Papà salvo! Papà salvo! Sto arrivando!